Parliamo di sanità in Alta Erpinia, lo facciamo con il sindaco di Monteverde Franco Ricciardi in Alta Erpinia. Tutti i comuni sembrano scontare un problema, che è quello dei medici di base, che molti stanno andando in pensione. Allora, questo qua è un problema che io veramente ho messo sul tavolo già da molto tempo, già negli incontri con la pilota, negli incontri con l'Asere. Devo ringraziare comunque l'Asere, perché con tutte le difficoltà, in un momento forte di pandemia, è comunque riuscito a garantirci la vaccinazione, i tamboni, anche se per i paesi che sono lontani forse si poteva fare qualcosa in più, però non sto qui a fare polemiche, basta che ne usciamo fuori quanto prima da questo sistema. Per quanto riguarda la medicina generale, è un problema serio che va affrontato, io spero il più presto possibile, perché specialmente per queste zone interne dell'Alta Erpinia, perché ci sono già molti paesi senza medico di base, quindi è un problema che va affrontato e risolto, altrimenti restiamo questa comunità senza servizi fondamentali. Il medico è un servizio fondamentale, senza il medico lo spopolamento continuerà ancora di più. La comunità come Monteverde ha già due centenari, altre persone prossime a arrivare a 100 anni, quindi parliamo di persone molto, molto anziate, che certamente con questa pandemia hanno avuto difficoltà. Ma che rischiano di rimanere senza medico, però, al di là delle statistiche. E rischiano di rimanere senza medico, cioè è un problema fondamentale che va affrontato, vogliamo cambiare, vogliamo trovare una strategia, bisogna sederci a tavolino e risolvere questo problema, perché è un problema maggiormente per i paesi piccolini, per i paesi piccoli non possono stare senza medico, non possono stare assolutamente senza medico.